amici di bubbles italia magazine benvenuti a questo nuovo episodio di sommelier a domicilio io sono sissi baratella e oggi mi trovo in oltre po pavese vado a farmi raccontare questo territorio dai veri protagonisti io non vedo l'ora e voi sotto questa pergola mi sembrava il posto ideale per dare appuntamento a luca padroggi titolare della piotta produttore di questo natur 100% pino nero oltre po pavese di ocigi in azienda come in tutte le aziende familiari mi occupo un po di vari ruoli però soprattutto la parte della cantina del magazzino e del commerciale questo di ocg una produzione abbastanza importante per la vostra realtà si produciamo circa 8 10 mila bottiglie all'anno suddivise in quattro etichette tra i di ocg e poi una piccola parte di vsq quindi vino spumante di qualità è una produzione che da quando sono entrati in azienda e quindi soprattutto negli ultimi anni ci sto dedicando tanta passione anche in famiglia abbiamo deciso di puntare soprattutto su questo quindi puntate sulla di ocg e puntate sul pino nero esatto soprattutto quello e in futuro usciremo con una sorta di riserva 100 mesi di insubito caspita allora mi segno subito di passare a trovarvi quando sarà pronta nel frattempo se ne posso avere un po di più e facciamo un brindisi finale e allora un in bocca al lupo e ci promettiamo di rivederci quando sarà pronta la riserva questo è sommelier a domicilio e noi ci vediamo nella prossima puntata